Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua con la review dei What If. Vediamo che cosa sono, perché onestamente non ho idea neanche io. Lasciate tanti like e recuperatevi i video appena usciti. Io vedo di Call e di Blank. E niente, andiamo a vedere cosa sono e poi analizziamo le carte uscite. Cosa sono gli oggetti giocatori dinamici SE FUT21? I giocatori SE di FUT sono oggetti dinamici potenziati che potrebbero ottenere un altro più due una sola volta nel caso in cui la squadra dovesse soddisfare i criteri degli scenari SE basati su eventi reali. Quindi, per dire, abbiamo Smalling che è un 88 potrebbe diventare 90, Conte potrebbe diventare 93, Sancio 92, Gomez 92, Marsello potrebbe diventare 90, Babu 87, insomma è interessante. In che modo i giocatori SE vengono aggiornati? Attaccanti centrocampisti aggiornano se la loro squadra segna almeno 6 gol in totale nelle prossime 5 partite di campionato. Beh, non è una cosa così impossibile, oggettivamente. I difensori partirei seggiorno se la loro squadra non prende gol in almeno una delle prossime 5 partite di campionato. È una sonzata, cioè, per i difensori. Se in pratica la Roma questo weekend non prende gol, settimana prossima Smalling o 90. Quando inizia l'evento SE avrà inizio a partire il giorno dell'ora in cui i giocatori elegibili per ricevere i giocatori verranno resi disponibili, quindi già da oggi in teoria sono disponibili, quindi inizia la conta. No, i dati di ogni giocatore sono disponibili qua. Bene, no, non c'è niente qua. In teoria, dato che qua, se clicchi, non c'è niente, dovrebbe essere che già da questo weekend, se per dire la Roma non prende gol, Smalling diventa un 90. Speriamo, perché per la Serie A sarebbe molto interessante. E 6 gol in totale in posizione 5 partite di campionato invece per attaccanti e o centrocampisti. Riceveranno altri aggiornamenti? No. E quanto tempo serve dopo che un giocatore soddisfere i requisiti? L'oggetto giocatore corrispondente verrà aggiornato il mercoledì successivo. Quindi se questa domenica o sabato la Roma non prende gol, mercoledì prossimo avremo Smalling 90. I what if sono questi. Vediamo Kanté, Sancio, tanti bel ragazzacci. In particolare Smalling, che è molto molto interessante. Odegaard e Yuri Berchike. Berchice, eh? Berchike? Berchike? Non so come si legga. Pereira, che pure non sembra essere male. Jovic, Lesmélu, che anche non è malissimo. E Mbavu, che è molto interessante. Andiamo a vedere però. Io partirei guardando un attimino Ciccio Caputo, che è un obiettivo. Quindi Caputo va sbloccato dall'obiettivo, insieme a tutti gli altri obiettivi che abbiamo qua. Segna due gol da fuori aria in amichevole. Farnisce assist in tre partite differenti con gli attaccanti in amichevole. Segna cinque gol con giocatori della serie A in amichevole, giocatori decisivi. Vince quattro partite in amichevole in food live, giocatori decisivi. Segna in dieci partiti differenti con gli italiani. Beh, non mi sembra una cosa così complicata. È assolutamente fattibile, quindi lo sbatti se non ne vale appena per sblocare questo Ciccio Caputo. Al momento hanno ancora aggiornato il sito di Food Bean. Quindi Ciccio Caputo si presenta con la versione oro, perché ancora non hanno messo all'interno del database probabilmente l'item. Però l'87, che prende un bel più 6 in passaggio, 8 in tiro, 13 in passaggio, 9 in dribbling, 16 in fisico e 6 in difesa rispetto al base. Che ricordiamo può prendere anche un più 2, ha 88, 89 in accelerazione di stacca e non ne ha fatto male. 93 in posizionamento, 90 di finalizzazione, 85 in potenza di tiro, 89 in tiro al volo, 86 di rigori. Pecca solo nel tiro dalla distanza. A livello di passaggio è terribile, non sa passare un pallone. Cioè, a parte i passaggi da un metro all'altro, ma non sa fare altro. A livello di dribbling, invece, agilità, tanta roba, reattività, tanta roba, equilibrio, non benissimo. Potrebbe essere un dribbling, un'agilità e una gestione del pallone stile Fernando Torres Prime. Quindi non agilissimo, perché poi i controlli e i dribbling non sono fenomenali. Potrebbe essere un po' macchinoso. Però c'ha l'in, questo potrebbe aiutare. Va provato, perché le statistiche dicono che agilano, ottima reattività, ma equilibrio, controllo, dribbling, non lo rendono proprio super mobile. Tanta roba, elevazione 99. Considerando anche un metro ottantuno, qualcosa stacca. Una buona forza fisica. Beh, una carta non male, andrebbe provata. Peccato dei tre stelle skill, che sicuramente rispetto all'anno scorso lo penalizzano. E poi lo sapete, per il meme io lo devo sbloccare. Lui lo sblocchiamo, lo proviamo e lo vediamo meglio. Poi abbiamo, eccolo qua, Rafinha nell'SBC. Per bloccare Rafinha serve una squadra con un team of the week minimo 83, una minimo 85 con un team of the week e una minimo 86. Poco stosetta, vediamo la carta. La carta è un 4-3, che corre tanto, ottima agilità, brutto all'equilibrio, non è un finalizzatore, non ha forza fisica. Guardate, secondo me, con 3 di piede debole, quella finalizzazione, comunque, va bene a potenza tiro, potenzialmente offensivo, ma il tiro non ha niente di che per il resto. Il passaggio non è affatto male, pecca un po' il passaggio lungo e conseguenze filtranti. Il dribbling, così così alla fine, perché sì, ha un'ottima agilità, un ottimo dribbling, ma poi il resto delle caratteristiche è niente di che e consideriamo che è un 3 di piede debole. Non è forte fisicamente, per me, per il prezzo a cui gira questa carta, che sarà molto elevato, per il momento è un no. Quindi, a meno che, cioè, no, secondo me è troppo cara. Non so quanto possa girare effettivamente, ma mi sembra troppo cara. Quindi, Berchiche, 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 terzino e sinistro, dove in realtà in Liga abbiamo grande scelta, tra Mendy e tutti gli altri, ne sono uscite tanti di terzini e sinistri. È sicuramente una buona carta, però si va a mischiare a tutta una serie di altri terzini e sinistri, e quindi non ne vedo una grande necessità. Corre, ma non a livelli assurdi. La difesa non è affatto male, ma non è assurda. Forte fisicamente non così tanto, ma è comunque buona. Un'ottima stamina, un'ottima elevazione, per essere un terzino comunque un buon dribbling. Passaggio ne ha fatto male. Ma io, raga, quando uno si fa una bella squadra di Liga, rimango dell'idea che andate su Mendy e si vola. Però a parte di scherzo è una buona carta, è comunque un buon terzino. Niente di incredibile o super necessario, però. Pereira è un 4-4, 275.000 crediti, lean come body type, è destro. E questa non sembra una bruttissima carta, se non che comunque con la finalizzazione è un po' una chiavica, considerando che noi abbiamo Esha e Kulusevski, che sono appena usciti. Questa qua, anche appandosi, non diventa come Esha, perché l'agilità e l'equilibrio di Esha sono superiori. Il tiro è decisamente, il passaggio forse è decisamente superiore di Pereira, ottimo, ottimo massaggio. Non è brutta come carta, se questo per caso riesce a ricevere l'upgrade è tanta roba. Quindi diciamo che a livello di tiro molto bene, cioè a livello di velocità molto bene, a livello di tiro per ora è nella norma, con l'upgrade potrebbe diventare bene, passaggio molto bene, perché sembra essere un attimo giocatore al fase di impostazione, e soprattutto ha delle statistiche difensive interessanti. Questo qua potrebbe essere adattato anche a centrocampista in un rombo stretto, forse. Non lo vedo bene in una mediana 2, ma in un centrocampo 3, un centrocampo o in un 3-5-2. Insomma, questa carta è interessante per più cose. Il dribbling è sicuramente un po' le frappie di ottimo equilibrio, l'agilità forse poteva essere un po' meglio. Se vogliamo migliorare l'agilità, un bel motore e si vola. Se invece lo vogliamo migliorare per la fase difensiva, questo gli metti ombra, la metti in difesa, cioè la metti a centrocampo, anche ancora. Però, insomma, usando l'imposa offensiva un motore, questa è un'ottima carta. Luka Jovic è un 4-5, molto bene, 330.000. Però, 85 accelerazioni, 87 scatto, 85 di agilità, passaggio un po' sdiarreante. Diciamo che il classico giocatore è pesante, è un po' alla benzema. Quindi, il tiro è bene, il fisico è bene, però poi c'è agilità, gestione del pallone, velocità. Sarà molto macchinoso in game, probabilmente. Quindi, sulla carta, anche con un più due, io non lo utilizzerei. Marcelo, Marcelo ha 77 di accelerazione, 73 di velocità. È appato e nonostante sia appato, c'ha 64 agilità e 64 di equilibrio con 70 di dribbling. È macchinosissimo. Difensivamente, poi, sembra molto interessante e fisicamente mostruoso. Però, è poco veloce e, soprattutto, agilità e equilibrio male. Quindi, per me, è un no anche con il più due. L'Ismelu, 150k, 4-4, il tiro malissimo. Passaggio non male, ma niente di eccellente. Il dribbling non agilissimo, ha equilibrio molto male. Sa tenere un pallone fra i piedi, difensivamente niente di che. Fisicamente, nella norma, non corre neanche così tanto. Diciamo che, magari, col più due potrebbe diventare più interessante. Al momento, non è che mi ispiri particolarmente anche lui. Adesso, Renato, easy e scolastico, si vola. Odegaard, 5-3. Odegaard è interessante, invece. Perché? Al momento, con quel 3 piedevole, è un no per me. Però, oggettivamente, non è un vero no-go. Magari non è full meta, però, essendo un 5-star skills e avendo, comunque, agilità 93, 91 di equilibrio, un dribbling fenomenale. Magari non ha tanta reattività e composure, però, pallone fra i piedi, sembra essere uno skiller pauroso. Soprattutto, sai impostare molto bene, ottima visione, passaggi benissimo, effetto. Il tiro, ok, non incredibile, però, comunque, un buon tiro. E la velocità, comunque, ha l'accelerazione. Quindi, se prende un più 2, comunque, comincia a corricchiare. Potrebbe essere un trequartista interessante, solo in quel ruolo. Perché poi ha difesa niente di che, e il fisico non è ganché. Quindi, magari come trequartista, col più 2 potrebbe diventare interessante. Poi abbiamo il Papu Gomez, versione 90. A me il Papu già piaceva nell'88. Quindi, anche senza guardare la carta, vi dico che come trequartista a me piace tantissimo. Se prende un più 2, diventa un fenomeno, perché va l'accelerazione 99, 92 di scatto. Vanno a 89, 90 di finalizzazione. Il passaggio diventa sempre meglio. Il dribbling va praticamente a 99 agilità, 99 equilibrio. Quindi, come carta, assolutamente buona. Bisognerà vedere a che prezzo girerà, però. Smoldini! Ho appena avuto la notizia in questi giorni che non riuscirò a mettere Maldini alla Serie A, perché, per, diciamo, regole, bisogna avere determinati tipi di icone. E non potrò mai... Ah, 75 di accelerazione, una pugnalata al cuore. Come rovinare una carta, porca miseria. Difensivamente non sembra male. Bene la velocità, bene la forza fisica, bene la velocità scatto. Le attività con posture ci stanno, però oggettivamente sembra essere macchinoso, perché ha high and average come body type. A livello di dribbling non è proprio un giocatore incredibile, poi le fra i piedi, ma quello poi bisogna vedere in game. L'accelerazione è una pecca e non è un grandissimo giocatore in fase di impostazione. Non so se è meta. Potrebbe esserlo, sicuramente col più due diventa ancora molto più interessante. Ed è possibile, se la Roma non prende Ghost Weekend, perché no? Però, boh, 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 boh. Sicuramente va giocato con un ombra e va provato. Se riesco lo compro e lo proviamo. Sicuramente è un'attima carta. Non so se è full meta per via della mancanza di accelerazione e l'ipotetico fatto che potrebbe essere macchinoso. Sancho, un milione e due. Beh, questa è tanta roba. Abbiamo un esterno. Abbiamo un esterno per la Bundes. Costerà tanto. Costerà oggettivamente tanto. Già sta un milione e due, perché comunque ha poche alternative. Sicuramente abbasserà il prezzo di quello prima. Non è tanto differente, però se questo prende un più due diventa veramente un grande esterno. Gli manca anche a lui il piede debole 4, però comunque con 5 stelle skill, con quel dribbling, quell'agilità, quell'equilibrio, quella finalizzazione, quell'accelerazione. Gli manca il filtrante, gli manca le 4 stelle di piede debole, però per il resto. E tira delle ciofeche, anche se precise. Però insomma sembra essere un buon esterno. Non a questo prezzo. Ma a quel prezzo mi prendo garincia baby. Poi abbiamo un Babu. Babu 500k. Terzino destro, poi migliore della Bundes. Senza un bro di dubbio. Corre tanto. Il dribbling sappiamo tutti che un Babu è buggato, quindi non lo guardo più di tanto. Difensivamente sembra essere molto forte. E fisicamente tanta roba. Forza fisica, stamina, elevazione, GG. GG davvero. Carta molto forte questa. Ancora, senza un bro di dubbio, il miglior trenzio della Bundes. Kant è 2 milioni e mezzo per un golo. Un golo, un golo, un golo, un golo, un golo. Kant è Kant. Lui prende un più 3 dalla versione precedente in velocità. Tiro, vabbè, più 2 nel resto e più 4 in fisico. Il fisico è sempre stato buggato perché Kant è sguscia. Tipo ti passa attraverso e ti prende il pallone perché è fortissimo difensivamente. È molto più agile. Tanta roba alle statistiche di dribbling perché tra quell'equilibrio e quella reattività, GG. Sa impostare meglio. Sicuramente tira meno ciofe che corre un po' di più. È una carta in proporzione migliore di quella precedente. Se prende un più 2 è tantissima roba. Beh, è un golo. Fortissimo, fortissimo, fortissimo. Ancora lui e si vola. Il king dei mediani, secondo me, escudendo le icone. E costa tanto però. A questo prezzo andare sull'89 senza se e senza ma. Bisogna vedere a che prezzo si avverrà.